Ciao, sono William Bisacchi e oggi andiamo a vedere in cantiere, andiamo a fare una sorpresa ai ragazzi che stanno lavorando qua. Questa è la porta blindata che è stata predisposta, dove ci si dovrà raccordare con il capotto esterno. E' finita il raso muro. Ciao ragazzi, ciao. Stiamo montando oggi questa vetrata scorrevole di enorme dimensione. Ivan, mi fai vedere come si muove questa vetrata scorrevole enorme? Sì. Aspetta che te la prendo dal di qua. Vediamo. Spettacolare, con i vetri extra chiari. Vediamo. Se qui, quando questo soggiorno sarà finito, si avrà una vetrata così intera, senza nessun montante, senza nessuna interruzione, con un vetro extra chiaro. Tutto chiuso. Tutto chiuso. Qui parte il muro. Dalla parte di qua verrà tutto ricoperto con del cartongesso, quindi rimarrà completamente scomparsa. Ma questo è un gran bel lavoro. Scorre da sola. Non è motorizzata, eh? Allora, vediamo se avete montato bene. Schiuma elastica. Perfetto. Come da normativa. Va bene. Di fuori, MS polimero, barriera del vapore. Barriera del vapore presente. Isolamento in legno, perfetto, va bene. Reggio in tonico esterno, va bene. Qui ci si raccorda col capotto. Direi che qua, anche la tenuta all'aria garantita da questo labirinto. Sistema bisacchi, c'è. Bene. Poi, cosa abbiamo qua? Anche qui manca ancora tutto il discorso della finitura in cartongesso. Chiudiamo delle finestre super slim. Di spessore molto sottile. Di fuori è un effetto tutto vetro. E anche qua abbiamo delle dimensioni molto grandi. Anta intera che funziona senza nessun tipo di problema. E come vedremo nelle altre stanze saranno ancora più grandi. Allora, fatemi vedere adesso la soglia pavimento. Andiamo a simulare con questa lastra di cartongesso il pavimento finale. Allora, cosa succede qua? Qui abbiamo un pavimento in piano perfetto. È così. Qui c'entranno i copri fili. Senza nessun inciampo. Qui ci va il coprifilo interno. E qua ci va il coprifilo esterno. Abbiamo delle canaline in acciaio inox, quindi indissolubili, come diceva Antonello Venditti. Con gli scarichi dell'acqua che vanno a raccordarsi con l'impianto esterno di fognatura. Poi, andiamo a vedere le altre stanze. Oh, bravissimo. Questa è una anta di dimensioni veramente incredibili. Si apre sia a battente che a ribalta. Non so se si riesce a notare la dimensione di questa anta. Questa è resa possibile dalla tecnologia che abbiamo usato sia per costruire l'anta, sia per la ferramenta completamente in acciaio inox. Acciaio inox vuol dire una ferramenta con molta resistenza meccanica e molta, molta portata. Anche qua è già tutto pronto. Il raccordo esterno per il capotto, con il suo breve vapore. Legno USB per disposizione per zanzariera. Spugna, questa qui è una BG1, tiene 600 pascal. Vuol dire che può tirare un oregano, una bomba d'acqua e non entrerà niente dentro. E soglia ribassata a pavimento. Poi cosa abbiamo, Ivan, qua in cantiere? Cosa avete installato? Abbiamo portato il finestre al piano superiore. Torniamo verso... Guardate l'ingresso, la bellezza di quella porta. Manca il pannello, ma nel telaio attorno, praticamente il telaio non si vede. È completamente raso muro, come una porta all'interno. Eppure una porta blindata e ha anche una serratura elettronica. Questa si chiude da sola tutte le volte. È veramente bella. Ecco, molto bella conseguenza. Mi chiedono sempre i miei chiesi. Si può fare una finestra a due anni con un'altra grande o un'altra piccola? Certo che si può fare. Si può fare quando hai un sistema che ti permette di avere molta portata perché la seconda anta diventa molto grande, come vedete adesso. E questa assimetria delle ante è una cosa molto, molto, molto bella. In architettura sta andando molto. Ivan, per favore, ci fai vedere la richiusura ancora. C'è il catenaccio che va a chiudere completamente l'anta secondaria per tutto il perimetro, non solamente nei due punti sopra e sotto. Sì, quelli sono tutti i punti di chiusura. Vedete, tre punti tutti in acciaio inox. Con le cenniere scomparsa. E ancora non stiamo parlando di ferramenta blindata. Questa è la ferramenta normale del sistema bisacchi. Poi cosa abbiamo? Ah, un'altra finestra di ante così, sempre asimmetrica, molto bella. Proviamo a sentire il catto rumore. No, non c'è traffico, eh? Non potete apprezzare. Sei qua, di bar. Anche il bar. A casa si sviluppa in questi livelli intermedi, molto bella. Eh, giusto. Anche queste sono ante di grandissima dimensione. Il profilio silenzio permette di fare entrare molta luce per la stanza. Fatto bene? E anche qui... Avete usato anche qua tutti i criteri progettati? L'ha messo. Ok. E l'ha messo in polimero per andare a sigillare anche tutto il controteline alla parte bassa. Queste sono cose che onestamente non fa nessuno. Qui adesso va ancora... Manca ancora tutta la sua finitura. Però... Veramente fatto bene. Allora, ultima parte del controllo. Di qua. Guardate che bella, che finestra. Mamma mia. Bene. Benissimo. Veramente sottile. Qui diamo ancora tutte le maniglie imballate per proteggerla. Bene. Allora, Iva. Controllo superato. Ottimo lavoro. Continuate così. Come sempre. Saluta la diretta di Facebook. Ciao. 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 Ciao.